Siamo finiti alle conclusioni, dico Dario di Giorgio per le conclusioni, prego Dario. Sì, a me è piaciuto, a me è piaciuto dare la possibilità alle aziende presenti in MIC di presentare le loro linee che sono sostenibili, a presentare le loro prime cream. Inviterei l'ingegnere Cavedani e il presidente di ACOMA per dire due parole appunto di saluto. Visto l'orario, una parola e mezzo. ACOMA che è l'associazione che raggruppa i fabbricanti di macchine da gelato e arredi italiana e ha 20 associati, un fatturato circa di 650 milioni di euro o 1.400 addetti e riteniamo di avere tra gli associati il 35% del mercato. Quattro dei nostri associati hanno spilato presentando le loro realizzazioni. La cosa che volevo sottolineare è questa. Mi riallaccio all'ultima slide dell'interessantissima relazione del dottor Stefanin dove, se ricordate, si parla di codice etico e anche di, nessuno ricorda, però per il codice etico volevo solo sottolineare che da parecchi anni gli associati ACOMA sottoscrivono un codice deontologico e che da tempi non sospetti all'interno di questo codice deontologico si parla di rispetto per l'ambiente. Ecco, noi ci terremo sempre di più, ovviamente, un valore sempre più sentito, avete capito anche dalle relazioni i progressi enormi che sono stati fatti dal punto di vista del consumo dell'acqua e anche energetico, chiaramente adesso va molto di moda l'energetico perché ce la bolletta, però io voglio sperare che sia una cosa temporanea. L'acqua è un bene che è assolutamente indispensabile, che all'interno dell'aggiaterie il consumo venga ridotto. Non vi porto di altro tempo, ringrazio Dario per questa bellissima iniziativa e quindi grazie, mi ringrazio per questo. Grazie, ringrazio appuntamento a tutti a MicroMilaventitare dove pensiamo di continuare anche questo modo di informare e comunicare quanto di ecosostenibile le nostre aziende profondano. Grazie a tutti, arrivederci a MicroMilaventitare.